io non è che c'ho molte parole in merito perché mi sembra proprio una stronzata vera e propria quella che hanno fatto quest'oggi perché non te puoi ricordar così tardi e soprattutto se hai accertato che veramente c'è stato illecito tre punti di penalizzazione è veramente una presa per i fondelli ciao il gabon io sì bella a tutti da me vi mancavano i video i video sul calcio parlato ebbene ecco mi sono tornato con questo nuovo video ma prima di continuare questa notizia l'ho appena appresa da one football applicazione preferita gratuita e di riferimento che vi consiglio di andare a scaricare per seguire il mondo del calcio a 360 gradi è gratuita sia per us sia per android detto questo chievo verona per il fatto dell'illecito sportivo che è stato accertato e parliamo di plusvalenze fittizie il chievo verona è stato penalizzato quest'oggi con soli a mio parere tre punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso più vabbè 200 mila euro di ammenda e tre mesi di inibizione a campedelli e va bene questa è una storia che non va in giro da oggi e secondo me è una storia che andava accertata prima non lo puoi fare dopo tutte le giornate che si sono giocate finora è una sosta per le nazionali perché perché è stato accertato l'illecito e quindi era giusto venissero presi provvedimenti immediati perché magari e dico magari se fosse stata presa una decisione prima dell'inizio del campionato secondo me il chievo avrebbe rischiato seriamente la serie a e in quel caso secondo me era giusto che che ci fosse stata un'altra squadra a prendere il suo posto che magari a livello dei bilanci si è sempre comportata bene che ha fatto il chievo ragazzi è stato accertato che ha fatto apparire tramite plusvalenze fittizie quindi tramite trasferimenti di giocatori con prezzi gonfiati hanno fatto apparire un patrimonio netto superiore a quello esistente al fine di ottenere la licenza nazionale e per iscriversi ai campionati 2015 2016 2016 2017 2017 2018 cioè questi sono tre anni che vanno avanti così se sono iscritti regolarmente al campionato nonostante abbiano gonfiato i prezzi di determinati giocatori proprio per questo proprio per aggirare quello che è il regolamento che è stato imposto quindi devi avere un patrimonio netto di una determinata cifra totale per poterti iscrivere al campionato successivo di serie a niente tranquillamente hanno gonfiato i prezzi dei giocatori e con il cesena hanno fatto questi trasferimenti ma al cesena non è stato preso alcun provvedimento se non qualche qualche piccola sanzione se parla dell'epoca dell'affiliazione ma non voglio entrare nel merito perché sinceramente me ne frega veramente ben poco fatto sta che in serie a proprio quest'anno il chievo avrà soli e ripeto soli tre punti di penalizzazione vi sembra una cosa giusta una squadra che per trea io non ce l'ho con i tifosi del chievo non ce l'ho con la squadra chievo verona sto semplicemente esprimendo un mio parere personale qualsiasi altra squadra fosse stata e se fosse trovata nella stessa identica situazione avrei detto la stessa identica cosa secondo me solo tre punti di penalizzazione per una cosa che viene praticamente fatta da tre stagioni mi sembra veramente una presa per i fondelli ripeto secondo me non hanno voluto falsare quello che è l'attuale campionato un corso di serie a perché sarebbero potuti succede veramente una marea dei casini ma soprattutto se va ad aggiungere un altro tra virgolette scandalo ed è quello della serie b a 19 squadre invece che 22 il fatto che alla fine hanno deciso che se rimane a 19 stesso identico discorso non hanno voluto mettere in risalto quelle che sono le lacune a livello giudiziale a livello di giudizio non solo della giustizia sportiva ma io parlerei in generale proprio della giustizia italiana e quindi secondo me poi può essere pure che ripeto in parere personale me sbaglio ma secondo me lo hanno fatto proprio per non creare ulteriori polemiche perché ieri se parlavate meno 15 al chievo e qualora lo avessero combinato secondo me avrebbero in parte falsato un campionato e squadre come palermo e non voglio fare altri nomi avrebbero potuto benissimo di scusate ma che cazzo state a fatto appunto potevate prendere prima la decisione mandarlo direttamente in serie b e fa sali una dello in serie a capite bene che la decisione è stata presa troppo in ritardo capite bene che una decisione più severa avrebbe potuto alimentare ancora più polemiche ma capite bene che anche questa decisione potrebbe alimentare polemiche non poco perché ripeto secondo me tre punti è veramente poco è una cosa che va avanti da tre esercizi da tre stagioni a livello diciamo patrimoniale per per le società de calcio va avanti da da tre esercizi però insomma da tre stagioni 2015 2016 2016 2017 2017 2017 questi praticamente hanno dato un punto di penalizzazione per ogni anno che il chievo ha gonfiato i prezzi dei giocatori e ha fatto questi questi trasferimenti con plusvalenze fittizie perché ripeto ha gonfiato i prezzi dei giocatori e quindi gli ha permesso di iscriversi ai campionati successivi di serie a ma se non c'è il patrimonio netto adeguato scusate che me se sta stacca sto elaborando altro video se no succede veramente macello se non c'è il patrimonio netto adeguato ovviamente non non puoi iscriverti in serie a non non rientri nei requisiti e quindi ripeto è giusta secondo voi una penalizzazione del genere ve lo chiedo nel sondaggio ve lo chiedo nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate ma ripeto secondo me è veramente una buffonata è una cretinata detto questo mi piace commentate condividete iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto bisogna velocizzare quella che è la giustizia sportiva e italiana in generale perché se no poi questo succede io non non ho altro da aggiungere tre punti cioè se se la soccavata veramente con poco e hanno soprattutto accertato che l'illecito c'è stato quindi secondo me almeno dieci punti otto dieci punti in minimo glieli avrebbero dovuti dare perché con tre punti tu comunque non vai a penalizzare sì il Chievo Verona non è una squadra che può fare cento punti però con tre punti è capace che se gliene davi otto magari poi a fine stagione vai a guardare e ti rendi conto che magari con otto punti di penalizzazione sarebbe retrocesso e magari con quei tre punti riesce a salvasse proprio pelo pelo secondo me non è una cosa giusta poi non lo so ditemi voi quello che ne pensate io ho espresso semplicemente il mio parere a più tardi con tanti nuovi contenuti ciao ragazzi